partita che vale la rincorsa ai playoff della amatori league cai di calcio 5 padroni di casa del deportivo la tudumia in maglia nera con aliotta boiocchi elmaschini lachicevic martinengo martino pizzasegola pizzato rosmino dragon ball risponde con castignola cassano cerra daverio filo grana galleani li boccia drago ball passa in vantaggio daverio serve cassano puntata e rete pareggio che arriva con pizzato che di testa spizza direttamente da rinvio di aliotta break di elmaschini che vai via in contropiede palla pizzato assista martinengo che fa 2 a 1 nel secondo tempo 3 a 1 con una bella puntata di elmaschini riapre la gara li boccia che da posizione defilata sorprende con primo palo aliotta e ancora lui vince un contrasto e fa 3 a 3 super gol poi di martinengo che dalla distanza lascia partire un destro imparabile per castignola dragon ball che rimangono sempre in corsa con cassano che riceve da li boccia e in diagonale 4 a 4 dragon ball però sfortunati quando boiocchi prova l'imbucata e una deviazione fa rotolare il pallone in rete per il 5 a 4 deportivo maglie del dragon ball che si allargano le vanoz quindi elmaschini che dialoga prima con boiocchi poi con pizzato prima di ribadire in rete infine il 7 a 4 di pizzato che riceve un lancio lungo raggira il portiere chiude per il 7 a 4 finale che fa appaiare in classifica le due squadre ancora in corsa per un posto nei playoff